A tutte le provocazioni sulla tua persona, tu puoi rispondere con calma. Adesso ti faremo la più grande provocazione possibile. Via con la provocazione! Non hai dignità, tu c'è un scuolo nell'uomo, per i tuoi interessi fai mille promesse da capire fa. Sembra un tipo che è una persona sincera a te, ma parli alle spalle così senza palletta a ticciare. E poi va! Non hai fatto gianna la femmina presa a te, ne hai conquistate ragazze con il tuo savo a ferra. Ma poi tutto sti tremmina se vende in Italia, e vuoi sapere perché? Con un po' si rublai, con un po' si rublai. Ma con un po' si rublai. Ma con un po' si rublai, con un po' si rublai. Tu e te, non è pur l'isciù, ma molto rica. Che le capeppa, dice te. Ma c'è lì! Con un po' si rublai. Con un po' si rublai. T'atticcia sana e sana, ma con un po' si rublai. Con un po' si rublai. Con un po' si rublai. Si parla che parò, che era fatta si rublai. Ne hai fatto... Signori! Ha resistito alla provocazione più grande di Mogol Battisti con Mommo Sinupleto. Posso dire una cosa? Mi hanno coinvolto. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? O prossimo di tu. Posso dire una cosa, Peppino? Peppi, Peppino. E così mi chiamo. Ho resistito alla provocazione perché io non sono quello che lui ha cantato. Però voglio fare i complimenti ad Alberto Selli perché già questa, non l'ho mai sentito questa canzone, è già... Ti è entrato? Già mi è entrata. Grande successo. Ma Alberto ha fatto sempre grandi successi. Io ricordo, ero piccolo e ancora non mi ricordo. In un dash class, in un dash class, in un dash class, faccio buona pedala. In un dash class. Mi toccato un'altra. Quando uno è artista, è artista. Bravo Alberto. Grazie. Grazie Alberto. Noi ci vediamo tra poco perché ci sarà un Alberto Selli. Per giocare con noi. Ok. Va bene, va bene. Bravo Alberto. Allora. Grande Alberto. Allora.